un nuovo lutto coinvolge il mondo del cinema è morta infatti glenda jeffson se ne va a 87 anni di età attrice ex deputata inglese e l'agente lionel larner a informarci della sua dipartita una donna semplice umile pensate che vinse il premio oscar come miglior attrice per il ruolo che ebbe nel film donne in amore nel 74 per la pellicola intitolata un tocco di classe una carriera artistica piuttosto imponente con l'aggiunta di una carriera politica di soddisfazione pura fu deputata anche il partito laborista poi tornò a dedicarsi al mondo della recitazione dei film dei lungometraggi insomma una donna umile semplice che ancora oggi rimane nei primigeni collettivo come un'attrice di esempio da seguire modello dal narratore italiano di youtube italy tuto iscrivetevi commentate glenda jackson riposi in pace a me